Salve a tutti, in questo video vediamo come creare delle cartelle e dei file inaccessibili su Windows 10. Per inaccessibili intendo che non si potrà entrare dentro la cartella a vedere i file e non si potrà nemmeno eliminarla. Allora, proviamo a creare una cartella, si può creare ovunque. In questo caso, se io faccio tasto del cancio oppure tasto destro elimina, si potrà cancellare senza nessun problema. Ma se io faccio una nuova cartella, prova, e vado anche dentro a creare altri file o a metterceli, quindi creiamo un documento di testo, torniamo indietro, ecco fatto. Noi vogliamo rendere la cartella prova, incancellabile e inaccessibile. Come facciamo? Facciamo tasto destro, proprietà, sicurezza e andiamo su modifica. A questo punto facciamo aggiungi e scriviamo au th authenticated, controlla nomi e ci verrà sottolineato authenticated users. Facciamo ok, diamogli un consenti qua su controllo completo, facciamo applica e poi diamoglielo di nuovo ma sunnega. Qua, in alto, applica, continua, si, ok, ok, ed ecco fatto. Attualmente non possiamo più entrare dentro la cartella prova, vedete, neanche se clicchiamo su continua e non possiamo nemmeno cancellare la cartella. Elimina, riprova, impossibile. Se vogliamo tornare indietro e renderla di nuovo accessibile e cancellabile, dobbiamo tornare qua su proprietà, tasto destro, sicurezza e su authenticated users facciamo modifica e clicchiamo su consenti e controllo completo. Applica, ok, ok. E adesso possiamo entrare, accedere ai file, possiamo cancellare la cartella, in questo modo, senza nessun problema. Spero di essere stato utile, un saluto a tutti.